Stai organizzando una festa tema unicorno? Sei in cerca di ispirazione? Beh, questo è il posto giusto! Ti insegnerò infatti a creare una decorazione pazzesca che renderà il tuo party veramente magico! Ma prima, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale! Ciao, sono Luisanna e benvenuti nel mio canale! In questo nuovo tutorial vi insegnerò a fare questo bellissimo arcobaleno! Siete pronti? Grazie a tutti! Per fare le nuvole ho gonfiato 10 palloncini di dimensioni diverse, legandoli tra di loro, creando così delle doppiette Ho intrecciato le doppiette tra di loro per creare delle quartine E poi ho legato le quartine insieme utilizzando i lembi dei palloncini Ed ecco che il nostro arcobaleno è terminato! Come vedete ho attaccato delle stelline e gli unicorni, i cui schemi li troverete nel mio blog www.ilfantasticomondodilu.it Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, se ancora non vi siete iscritti iscrivetevi al mio canale E nei commenti se volete potete farmi delle domande Ci vediamo al prossimo tutorial! Ciao! 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 Ciao!